Allora, bella gente, siamo qua a Imperia, spiaggia d'oro, magnifica giornata di sole, la meglio gioventù tutta qui, c'è tanta bella gente, sta entrando bene il vento, io armo 4.2.88 e dovremmo divertirci, temperatura magnifica, a dopo, ciao! Grazie a tutti! Precedenza rispettata, alla grande. Sì, mi chiamano. Sì, mi chiamano. Sì, mi chiamano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non li racconto a nessuno, purtroppo. Eccoci qua. Allora, giochi finiti. È stata una bella giornata. La 4.2 è diventata quasi subito ingestibile. Sono passato a una EZ Elite 3.7 e alla 80 litri da tabù da curva. È diventata presto grossa anche quella, però è entrato un bel mare. Poi, sul finale, il vento ha mollato un po', però il piano d'acqua si è un po' sminchiato. E niente, comunque insomma, bella giornata, bello sempre bello. Il mare va bene così. Ci sono spot più epici, ma va bene. Adesso guardate il mare. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.